Noi non abbiamo nulla. Nulla da temere, a quanto sembra con le donne è molto galante. Noi non abbiamo nulla. Noi non abbiamo nulla. Noi non abbiamo nulla. Romeo de Torres, Juan Collantes, Miguel de Linares, Luis Chevedo, Ramon de la Serra sono deferiti alla corte marziale. Tanti zorro in azione che appaiono nello stesso momento a centinaia di miglia l'uno dall'altro, metteranno lo sconfiglio tra i francesi e i traditori al servizio del nemico. Noi non abbiamo nulla. 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 Grazie.